Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati di nuovo in un nuovissimo episodio del Great Harmony Siamo come al solito dentro di sé perché è sempre in costruzione Vedete anche sulla destra che è qua Sì veramente ragazzi, lo chiedete ogni secondo È in costruzione? Tranquilli che non siete gli unici che vogliono che apra Voglio anch'io aprire il prima possibile perché mi sto rompendo le balle Però davvero è tanta 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 preparazione E nel settaggio di tutto sono io perché Asenka Comunque mi dà una mano nella parte un po' tecnica come per me sia roba varia Nella parte invece del settaggio dei plugin quello Stiamo avendo dei problemi con il server quindi a breve lo cambieremo Esatto cambieranno un paio di cose ma comunque il principale Non sono affari vostri Il principale sono cazzi nostri Niente entriamo dentro Venga qui Signorina Non spacchi in giro Venga qui C'era un buco Eh buco Allora Siamo tornati Qui l'avete già visto sti cazzi Allora Vi ricordate che l'altra volta mi sembra L'altra volta ancora prima vi accennavo alle armi Che avevamo preso per ispirazione dei supereroi Le ho fatte Le ho fatte Eccole qui Quattro armi Io direi di andare direttamente nell'arena Le vediamo direttamente là Se magari questa non sembriaga Allora andiamo nella seconda Allora andiamo nella seconda Questa è la seconda arena Questa che l'avete già vista tra l'altro Quindi sti cazzi Ok In che via andiamo? Il ghiaccio Il ghiaccio Allora le armi È un'arma del ghiaccio Basti cazzi Allora le armi saranno Sono ispirate ai supereroi Per esattezza Ai fantastici Quattro Yey Quindi L'uomo No Cos'era? L'uomo torcia Se magari le armi Le facevi copia in cola Le prendevo anch'io Io non le ho prese Ah ok Sono bugate nella cesta Perfetto Le devo riprendere a mano Ehm Quindi Shogget Torcia Questa è l'arma Della torcia umana Poi Vedere Dammi anche a mano Anche a mano Mister Fantastic Allora le prendo tutte prima Poi c'è La cosa E infine Ma non meno importante La donna invisibile Sono le quattro armi Ispirate proprio A loro Voglio quella della donna invisibile Vieni qui Te le stacco Perché te le copio Così Allora Sono Adesso faccio una domanda Da nabba Che appena ho visto il video Ma saranno Eh Saranno Mi viene più la parola Deve Prendibili No Cosa Oddio Usegetta Allora Una sì Le altre no E come le prenderemo Queste armi Queste armi Saranno disponibili Per un breve periodo Non so quando Sceglieremo magari Un evento di qualche cosa Un periodo E saranno disponibili Per poco Comprabili Comunque soldi del server E niente Io direi che possiamo Vederle Prima cosa le vediamo Ok Prima arma Cioè quella della torcia umana Andiamo nel bioma Del nether Che fa figo E proviamo l'arma Della torcia umana Pum A fuoco e fiamme Fuoco e fiamme Fiamma 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 No ma è carina Che effetti ha? Da fuoco Se ti colpisce Questa ti da fuoco Ok bene Ci sta come cosa L'arma di mister fantastic Che direi che la proviamo Nel bioma del land L'arma di mister fantastic Invece è un'arma Questa si consuma E Vabbè descrizione C'è la soluzione Nel land Ok C'è una fontana Nel land No vabbè perché No deve finire No deve finire l'effetto E poi la puoi rispondare Esatto Ogni 10 secondi La puoi riusare Questo è l'effetto principale Ed è buona Come cosa Da resistenza 2 A velocità Come effetti Non è male Potenza nel salto E utile tipo qua Che devi non so saltare Da qui a qui Riesce a saltare Molto utile anche questa Eh Vediamo Madonna Beh non è malaccio Eh No è bella Prossima arma È l'arma della cosa Quindi insomma Andiamo nel bioma Non c'entra un brazzo Però quello Del Ed è un'arma Questi tiri Un pugno È tempo di distruzione Questa tiri Un destro Poderosissimo Che dà un danno Dalla madonna Quindi Ti teletrasporta No Praticamente Ti carichi il pugno E lo dai a velocità Mi piace Bellissimo Tiri un destro POM E dai in faccia Al tuo nemico Molto carina Eh A farla Mi sono divertita Io avevo detto anche Di fare quello Di spiderman No E beh adesso Buttava Un senti qua Nel senso Che buttava le ragnative E gli faccia Più 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 Ma faccia poco La noiosa Questa è l'arma Della donna invisibile Oddio E ti mette Invisibilità Invisibilità E slow and 3 Lentezza 3 Perché comunque Invisibilità è una cosa Troppo OP Quindi ci ho messo Un po' di lentezza Comunque tira un pupo E' come se avessi Una barriera Che ti rallenta Nei movimenti E ti rendi visibile Mi piace Mi piace Molto semplice Molto semplice E ora Arriva la parte E ora si prova Eh 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 Mi diverti Parci umana Pronto? Nota umana Vada Ok Aia Non dà fuoco Perché appunto Io non le ho provate Non le ho provate Perché volevo provarle Insieme a voi La prima volta Comunque Sta non dà fuoco Perfetto Peccato Ah peccato Però vabbè Non fa tantissimo danno Comunque Lo sapete Io guardo più gli effetti Il danno Lo vedo dopo Sinceramente Sono fatto così Mi danno poi Lo stesso sistema Però io più che altro Volevo farvi vedere Gli effetti Per ora Ok Prossima arma Vabbè questa Ti potenzia Quindi vabbè C'è poco da provare Vabbè non la faccio Andiamo sulla cosa La cosa Quella invece Il danno Dovrebbe averlo settato Spero che L'avrò settato Abbastanza buona Ho paura Adesso volo eh Ah vabbè Ho un cuore e mezzo Comunque Oddio La madonna No 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 Mizzo cuore Usa quella Usa l'arma no Quale Per scappare Ma non ce l'ho Le ho fatto clear Non ho niente Non ho niente Non ho niente Oh ti fa danno anche questa Eh sì No vabbè Non fa un cazzo di danno Eh però fa danno anche quella Ok andiamo dalla danno invisibile Proviamo l'ultima arma Per oggi Pronto? Pronto Vabbè Non fa tanto danno Non ho fatto neanche l'arma Aspetta Non deve ricaricare Mira bene Non si ricarica Appunto che devi mirare bene Vabbè Oh no 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 Fa 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 Devi colpire ovviamente Però fa Ma è una bellina Non è male Non è male Poi faremo Le daremo con un evento Perché mi piace la cosa Ci sta che si venga data la roba Con l'evento Io Se vedete che laghe Perché lagho io Ho pacchetti persi Quindi non lo Ah mi avevi riammazzato No Non l'avevo visto Io l'ho ammazzato No Ma chi cato fuori Perché ho troppi pacchetti Per Vabbè dai Bene ragazzi Spero che vi possa essere piaciuto Queste sono le quattro armi dedicate ai Fantastici 4 Ditemi se vi piace Che io faccio temi del genere Perché ci sta Mi aiuta anche a trovare delle idee Per armi nuove E anche su Esatto Cose così Ditle tranquillamente A me fa piacerissimo Perché mi date uno spunto Per pensare a delle idee Sinceramente L'arma più difficile da fare È stata quella di Mr. Fantastic Non avevo idea di come farla Non ci avevo idea Poi ho visto comunque Mr. Fantastic Che in qualche video Si vede che è comunque più resistente Salta più in alto Perché si allunga Allora Dice di far diventare Un'arma Che ti potenzia Semplicemente Per quello L'ho fatta così E non fa d'arma No ma la trovo molto molto carina Sinceramente Cioè più che altro Utile nel pvp Perché non ci sono sempre Solo armi Esatto Cioè È una cosa che ho fatto Anche perché armi così Scusate c'è un prurito all'orecchio Armi così Non ne ho tantissime Questa è una giunta Che ci può stare Bene ragazzi Spero che questo video possa essere piaciuto Vi ricordate di lasciare il video 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 Commentatelo Condividete dunque Anche al senso Mi raccomando E niente Io direi che È tempo di distruzione No scherzo È la cosa che dice così È tempo di distruzione Se no Ancora meglio Fiamma Diceva E per momento Possiamo dire Che è Finita Ciao Ciao